Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Finalmente gli esercenti e i bar di Padova possono tirare un respiro di sollievo, infatti al termine di una indagine dettagliata la squadra mobile della questura della città euganea ha fermato il presunto responsabile di diverse spaccate che negli ultimi mesi hanno colpito i negozi del centro storico. Questa mattina a congratularsi in questura anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Pace fatta e ritrovata la serenità in una città come Padova che è stata veramente bersagliata in questo periodo, la spaccata. Pace fatta cosa vuoi dire? C'era un po' di critica stamattina da parte del questore verso alcune... Ah, nel senso che l'amministrazione è sempre stata concorda con loro, l'hanno sempre sostenuto. So che hanno dato l'anima in questo, tutte le forze, carabinieri, polizia, finanza, hanno dato là, anche la polizia locale nostra, gira di notte in Borghese per cercare di prendere. Ne hanno preso, sono contento, soddisfatto, lo saputo stamattina mi sono auto-invitato, ho chiamato in questore, ho detto posso venire anch'io, non per fare dichiarazioni, perché è giusto testimonare che la città è grata a loro per quello che fanno, per i sacrifici che fanno. Giustamente se tolgo qualche sassolino, ha fatto bene perché sembrava che non si impegnassero, invece è andato l'anima. Ho visto ieri i poliziotto, dormivano quattro ore, insomma, bisogna essere riconoscenti in questo. Il questore ha fatto un applauso proprio per la sua presenza, è la prima volta che gli è capitato nella sua carriera di trovare che un sindaco viene e si auto-invita a una conferenza stampa, non solo, ma è stata una prima prova di esperimento, di interforza, no? Io sono convinto che le cose vanno bene quando le istituzioni a Padova vanno d'accordo, quando il comune, provincia, camera di commercio, questore, il prefetto, il vescovo, tutti quanti vanno d'accordo, è il massimo per la città. Tutti assieme si fa bene, si va meglio, non c'è nessun problema. Questo è il clima che sta, questo clima c'è a Padova e sono contento che ci sia. I problemi si risolvono in questa maniera e io sono contento, sono soddisfatto del loro lavoro, io non sono un giustizialista. Ma chi delinque, per me, non è il mio compito, ma non c'è pietà. Io sono, chi è povero, chi ha problemi, questo è una cosa. Ma chi, il pacchettatore abusivo, lo spacciatore e compagnia, per me vanno presi, messi dentro, chiusi la chiave e buttati via la chiave. Torc Amor Ben Lazar, un progiudicato scaltro ben noto alla giustizia, è stato preso con un blitz mirato ad incastrarlo la refurtiva recuperata. Lo hanno catturato nel quartiere Palestro, dove si rifugiava in un alloggio che fungeva anche da magazzino per la merce rubata. E' ancora in corso la identificazione di tutta la merce, per capire esattamente quante spaccate gli possano essere attribuite. Quarantenne, tossicodipendente, il fermato si dichiara di origine tunisina, un'informazione ancora da accertare. Però, visto un curioso precedente, già resato a Padova per i reati legati allo spaccio di droga, è uscito di prigione nell'estate del 2017, bloccato per altri reati, è stato inviato al centro di espulsione di Torino, dove ha dichiarato di essere tunisino, ma il paese nordafricano non lo ha riconosciuto, rendendo quindi impossibile la sua espulsione dall'Italia. Sono attribuiti al quarantenne quelli che nei giorni scorsi sono stati oggetto delle spaccate, la panettieria Carlotta e ancora il negozio E-Fashion, ma si indaga anche su altre spaccate, tra cui quella dell'8 giugno al public di Via Altinate. Un criminale quindi navigato e difficile da catturare. Vediamo. Questo è un problema che la città sentiva moltissimo. Noi ce l'abbiamo messa tutta, non è stato semplice. Molto spesso scoprire dei reati di più alto livello paradossalmente è più facile, perché si possono sfruttare tecnologie, si possono sfruttare altri tipi di cose, che nel caso in specie invece di questo irregolare è stato un po' difficile, quindi si è ricorso a sistemi investigativi di vecchia maniera, di grande difficoltà, quindi di spostamenti sul territorio e siamo contenti di aver dato una risposta. Come in tutte le cose che facciamo non abbiamo mai la pretesa di aver cancellato un problema. Però abbiamo detto che ci siamo, come ci sono le altre forze di polizia. Stavolta abbiamo fatto noi quello che dobbiamo fare, altre volte loro, ma non ha importanza, è importante consegnare alla città un'immagine di una forza di polizia presente. Poi, voglio dire, questo non significa che domani non potrà succedere un altro reato, però sicuramente abbiamo messo le mani nel soggetto, credo, più pericoloso e più importante, con una storia di pregiudizi penali significativa, condita da una irregolarità sul territorio che lo ha portato a schizzare a destra e a manca, ad una difficoltà di identificazione che durante la sua permanenza nel 2017, dopo aver espiato una condanna, non ha consentito la sua espulsione, diciamo, in quella che poteva essere il suo territorio di origine, perché non è stato riconosciuto come un appartenente a quello Stato, segnatamente alla Tunisia, e quindi ce lo siamo ritrovato qua. Adesso va in galera, poi vedremo cosa possiamo fare per poterlo esplodere definitivamente, ma è chiaro che le normative in atto sono queste, so che il governo sta facendo dei passi che non aspetta a me giudicare, però è nel senso di cercare di incrementare in qualche modo l'attività di espulsione, che è quella sulla quale la questura di Pato, in particolare, si prodiga tantissimo, noi abbiamo tantissime persone espulse, tantissime persone accompagnate ai centri di accoglienza, quindi sotto questo aspetto continuiamo a fare il nostro. Consci però che questo è una botta che abbiamo dato per dire siamo, ci siamo, siamo presenti, non abbiamo sottovalutato niente, abbiamo lavorato giorno e notte persone che dormivano una sera sì e una sera no, ecco tutto questo, se mi consentite, non può permettere a nessuno di dire che noi sottovalutiamo o che stiamo con le mani in mano. Siamo stati anche fortunati, come ci vuole sempre un po' di fortuna, abbiamo fatto questo risultato che probabilmente non sarà definitivo, ma comunque segna un passaggio importante perché crediamo che questo sia il soggetto che più di tutti faceva queste spaccate, continueremo e non abbassiamo la guardia con altre tecnologie, con altri servizi, con altri controlli del territorio, pregando la gente di convincersi che ci siamo e che purtroppo quando un reato si fa, il reato si persegue con le indagini, non si persegue sempre e soltanto con una maggiore presenza di divise sul territorio, la divisa serve prima per evitare che un reato si commetta, quando è commesso sono le indagini, le indagini silenziose, le indagini difficili, le indagini che hanno anche bisogno di un po' di tranquillità per arrivare al risultato, questa è una mobile splendida che ha fatto tanto, che ha già arrestato, ricordo due mesi fa, un soggetto che aveva fatto altre due spaccate, questo soggetto di oggi ne aveva fatto già uno nel 2014, quindi sono delle persone che vivono in questo modo, probabilmente anche utilizzano stupefacenti perché quando è uscito dal carcere aveva una condanna per detenzione di stupefacenti, è stato due anni di attenuto colpato, quindi una persona attenzionata che conferma la nostra presenza e credo che offre alla città il meglio che noi possiamo dire per cercare di renderla più tranquilla. Lo ricordiamo, nei giorni scorsi in collaborazione con i carabinieri sono stati anche identificati i sette soggetti a cui sono stati prelevati dei campioni biologici per le comparazioni scientifiche trasferite ora al RIS, si tratta di tre italiani e di quattro stranieri, tra loro anche l'arrestato della polizia, mentre gli altri sono attualmente liberi. Ad inizio settembre un 42enne senegalese tossicodipendente era stato arrestato dopo due spaccate, lo ricordiamo, presso l'antico forno in via Cassan e in via San Clemente. Una settimana prima invece un altro 34enne di Bergamo era stato sorpreso davanti ad alcuni dei locali colpiti e quindi accusato di almeno due furti. È stato un vero regolamento di conti con tutta probabilità interno al mondo dello spaccio della droga, l'aggressione a colpi di arma da fuoco che ha gettato nel panico la zona di Prato della Valle in via Cavazzana lunedì notte. I carabinieri hanno arrestato a poche ore dal fatto l'esecutore materiale che ha sparato ad altezza Duomo. Ricorrevano un tunisino dopo una furente discussione in Prato, tre contro tre, e il fermato non ha esitato a sparare due colpi contro il fuggiasco. Si tratta di Rapichi Erbis, 38enne albanese, che dovrà ora rispondere di tentato omicidio ed è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Lo hanno intercettato i carabinieri nella sua abitazione dopo aver accuratamente passato al setaccio le telecamere attorno a via Cavazzana che hanno immortalato le due Fiat 500 L usate proprio dai tre banditi albanesi per scappare dopo l'aggressione. Grazie ai dati forniti dalla società che ha noleggiato le auto e grazie anche alla testimonianza del titolare del kebab presente durante l'inseguimento e minacciato con l'arma, i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati in via Pietro Bembo 63. La perquisizione in casa ha segnato poi la svolta. All'interno c'erano 110 grammi di cocaina, 11 di marijuana, oltre ad un manganello, 9 cellulari e 22 mila euro in contanti. Tutti elementi che hanno lasciato pochi dubbi sull'attività di pusher dell'uomo, impossibile per lui negare l'evidenza. Il tretrottene ha mirato all'altezza d'uomo guadagnandosi così l'accusa di tentato omicidio a cui si aggiunge anche quella per spaccio. Ora è nel carcere di Padova. Vediamo. In poche ore siamo riusciti a dare un nome, un volto a questa persona che si è resa protagonista di un fatto veramente grave nel cuore di Padova e sparare contro una vetrata di questo negozio di kebab e sparare all'altezza uomo soprattutto, quindi il suo intento era sicuramente quello di ammazzare. Ci siamo messi di impegno sin dalle prime ore dell'alba e senza soluzioni di continuità siamo riusciti ad individuare questo cittadino albanese che abita a Padova, al quale abbiamo trovato anche 20.000 euro in contanti oltre un etto di cocaina e soprattutto poi siamo riusciti a identificare lui come l'autore materiale di questo episodio. La giustificazione che lui ha dato è di aver reagito a un'aggressione da parte di questi nordafricani e in questo sono in corso ulteriori approfondimenti anche perché riteniamo che questo episodio possa essere maturato in un ambito di traffico di stupefacenti. Ci siamo arrivati in breve tempo grazie intanto alle testimonianze delle persone che hanno assistito a questo evento ma anche grazie allo sviluppo delle telecamere che ci hanno consentito di individuare i mezzi con i quali gli autori di questo tentato omicidio sono scappati e pur non essendo loro intestati ma erano intestati a società dei leasing di noleggio auto e che erano state prese a noleggio da prestanome in breve tempo siamo riusciti a capire chi effettivamente aveva la disponibilità di queste auto e fare eruzione e trovare sia le auto che soprattutto la droga. Si può pensare che l'eferrettezza di questo fatto possa far pensare ad una sostituzione nel mercato della droga a Padova? Riteniamo che sicuramente aver trovato quest'ingente somma di denaro con dello stupefacente già suddiviso in dosi anche abbastanza non a livello di piazza sicuramente questo ci fa capire che almeno quell'area era gestita dagli albanesi. Per quanto riguarda le spaccate noi già da diversi mesi stiamo facendo un'attività di analisi e mettendo in campo diversi uomini e mezzi che ci hanno consentito di segnalare alla procura siete sospettati ai quali con la finalità di comparare i loro profili DNA con quelli repertati in sede di sopralluoghi. Tra i vari sospettati c'era anche il cittadino tunisino che è stato fermato dalla questura. È stato firmato un protocollo d'intesa tra il presidente della nuova provincia di Padova Enox Soranzo e il sindaco del comune di Villa Franca Padovana Luciano Salvò. Questo per realizzare due nuove rotatorie che metteranno in sicurezza il traffico verso l'alta Padovana. Si tratta delle intersezioni che regolano gli incroci della provinciale 12 della Torre Rossa con via Verga e via Madonna. La provincia ha già stanziato a bilancio il cofinanziamento di oltre 305 mila euro sui 555 mila previsti dal piano economico per la realizzazione delle due rotatorie. La restante parte sarà invece messa dal comune di Villa Franca Padovana con 55 mila euro con fondi propri e altri 194 mila euro utilizzando contributo regionale. Vediamo. Come provincia di Padova abbiamo voluto intervenire in un'opera come dal costo di 555 mila euro quindi con due rotatori in comune di Villa Franca lungo la strada provinciale sicurezza, viabilità, efficienza, infrastrutture. Stiamo lavorando a pieno ritmo per dare risposte sul territorio. Credo questo è l'ennesimo intervento, l'ennesimo cantiere che in quattro anni diamo attivazione su una sinergia che di fatto vede in questo caso la progettazione della stazione appaltante alla provincia di Padova, quindi un'opera che fa la provincia di Padova ma di fatto in collaborazione sempre con le municipalità come con Villa Franca e la regione Veneto che ha contribuito con circa 194 mila euro a questo intervento. Finalmente riusciamo a dare una risposta importante a due punti neri sui quali ovviamente per tanti anni abbiamo concentrato la nostra attenzione. Grazie a questo rapporto fra istituzioni insomma siamo riusciti a mettere insieme le risorse finanziarie, provincia, regione e comune per dare questa risposta molto importante. La viabilità provinciale attraversa in maniera significativa il territorio del nostro comune ci sono anche altre realtà però intanto partiamo con questi due punti che sono quelli che in qualche modo hanno dato fino a questo momento più problemi. E questa mattina c'è stata l'inaugurazione del nuovo campo di bocce del centro anziani e pensionati Sempreverde in via Cave. Alla inaugurazione erano presenti l'assessore al decentramento, l'assessore allo sport Diego Bonavina e il presidente del Sempreverde Roberto Cazzaro insieme ad altri soci del centro. Questa mattina Palazzo Moroni ha ospitato un incontro organizzato nell'ambito del progetto Veneto Adapt con uno dei massimi esperti al mondo di gestione dell'emergenza e si è occupato della gestione di alcuni dei più grandi disastri contemporanei di ogni continente tra cui il terremoto di San Francisco nel 1989, l'attacco alle torri gemelle e la ricostruzione di New Orleans dopo l'uragano, lo ricordiamo Catrina. Ebbene a margine del convegno abbiamo avvicinato proprio lui, Edward Blackley, dice dobbiamo prepararci al cambio del clima, magari non così velocemente, ma dobbiamo prestare massima attenzione. Se si riproponesse però un evento gravoso, se non addirittura catastrofico, non coinvolgerebbe soltanto la zona colpita, ma l'intera nazione. Sì, il clima è sempre cambiato, ma non così velocemente. Il clima è cambiato così velocemente che non possiamo adattare. Quindi dobbiamo preparare per un futuro quando ci sono molti incontri, non un incontri. Quindi questo è la grande differenza, e è più severo. New Orleans è quello che si chiamano il ricordamento. E' un parco dedicato ai diritti delle bambine e dei bambini. Domani, in occasione della giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, sarà inaugurata in piazzetta Forza Te, una targa che dedica la piazza ai diritti dei più giovani. Alle 16.30 la giornata inizierà con l'accoglienza delle famiglie e i giochi di strada, mentre alle 17.00 è prevista l'inaugurazione con l'assessora ai servizi sociali. E a seguire sono previste musica e attività di sensibilizzazione sulla tematica dei diritti di bambine e bambini, con la partecipazione degli alunni della scuola Giotto e a inghierizzo musicale, nonché dei ragazzi del centro di animazione territoriale. E' partito il countdown per il Grand Prix di ginnastica che si svolgerà a Padova l'8 dicembre prossimo dalle 15.30 presso il Chione Arena e vedrà le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scendere in pedana per dar vita ad uno show mozzafiato, stupendo il pubblico tra performance di assoluto livello e spettacolari esibizioni dal vivo. Torna quindi in Veneto, grazie al supporto dell'assessorato allo sport del Comune di Padova, la manifestazione che da anni porta le stelle nelle diverse specialità della ginnastica nelle più belle città d'Italia, mantenendo la stessa formula vincente di sempre, una kermesse di evoluzioni e volteggi al termine della quale verrà eletta proprio la esibizione più coinvolgente della manifestazione. Il costo del biglietto, ricordo, è di 14 Euro per il secondo anello, mentre 25 Euro per il primo anello. Vediamo. Assessore Bonavina, Grand Prix di ginnastica, che cos'è questo Grand Prix a Padova? Possiamo dire tranquillamente che l'evento clou dell'anno, perché è un Grand Prix internazionale di ginnastica, chiude una stagione, devo dire, importantissima anche per i colori dell'Italia. Padova è una realtà fortissima dal punto di vista di formazione di talenti e anche della formazione dei ragazzi per lo sport di base. Ci sono delle società importantissime a Padova. Quando si è aperta questa possibilità di portare questo evento qui a Padova, l'abbiamo presa al volo, anche perché è la prima volta in assoluto che arriva questo Grand Prix qua a Padova. Le ultime edizioni sono state molto prestigiose, perché dal forum di Assago a Verona, dove ci sono dei palazzetti importantissimi, a Padova abbiamo il Palacchio Ene, che forse come capienza è leggermente inferiore agli altri, ma come ospitalità è straordinaria. E quindi la federazione SG+, che sono gli organizzatori dell'evento, hanno accettato immediatamente questa mia richiesta. e io sono veramente felice di poter essere qui oggi ad annunciare l'8 dicembre il Grand Prix internazionale di ginnastica. Massimo Zanotto, Grand Prix X, che approda a Padova per la prima volta. Sì, è un evento che torna in Veneto dopo le due edizioni di Verona del 15 e del 16. Prima volta che viene a Padova, una città che è molto importante per la ginnastica, per le molte società che ci sono, sia di artistica che di ritmica, e per i campioni che si allenano sul territorio. Normale direi coni Veneto, ginnastica, atletica, insomma c'è molto da fare. Ma io voglio ricordare che la ginnastica mi ha dato la grande soddisfazione, perché a Rimini, al trofeo coni Kinder, è arrivata prima su 21 regioni, quindi siamo in testa al medaliere. Questo lo devo ringraziare proprio di cuore, perché fanno con passione, con grandi sacrifici, si impegnano e portano avanti quel progetto che noi vogliamo, che i giovani si avvicinino sempre di più allo sport e che ci diano grandi soddisfazioni. Poi se qualcuno va in Mondiale e Olimpiadi, meglio, però quello che io vorrei è che i valori dello sport di cui il Coni è portatore, sono quelli della partecipazione. Quindi ringrazio la ginnastica, ha riconosciuto questo e ci ha fatto sognare anche a Rimini. Lei come presidente del Coni Veneto più volte ha sollecitato il Coni nazionale, insomma con i fondi, ad aiutare proprio le piccole società. Beh certamente deve esserci più attenzione e più disponibilità a investire con le piccole società, con le federazioni che molti le chiamano minori ma non sono minori, perché sono loro che portano via i ragazzi dalla strada, le ragazze dalla strada, dal PC, da tutte quelle attrattive che ci sono in questo momento. E se non li aiutiamo non possiamo far diventare un'Italia grande come la vogliamo noi e un futuro migliore per i nostri giovani. E per chiudere come sempre un'occhiata alla viabilità a Padova, saranno chiuse temporaneamente al traffico regolare via Rudena, nel tratto compreso tra via Cappelli e via Bellano, proprio dal 15 di ottobre fino alle ore 12 e poi ancora lunedì 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 e 30 e poi nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17. E ancora via Bernardino Scardeone, tratto compreso tra via Gattamenata e via Barozzi, da praticamente oggi fino a venerdì 13 per il proseguo dei lavori per la risoluzione degli allagamenti. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Vi ricordo come sempre il nostro sito www.caffetv24.it per continuare a rimanere aggiornati. Grazie per l'attenzione e buona visione dei nostri programmi.